Per far fronte all'aumento dell'uso di auto e scooter, sull'isola di Procida, l'amministrazione guidata dal sindaco Dino Ambrosino introduce le targhe alterne. Ad annunciarlo è l'assessore Lucia Mamedi, con delega al turismo, che scrive «In questi mesi abbiamo pensato le varie soluzioni per venire incontro ai bisogni di tutti. Per noi la politica deve perseguire la strada dell'assunzione di responsabilità e del consenso. Consenso e non compromesso. La nuova normalità ci ha portato a ragionare in modo diverso. Incontriamoci ma distanziamoci. Le nuove regole hanno cambiato e cambieranno la nostra quotidianità. Al centro del nostro ragionamento restano sempre e comunque prima le persone. L'effetto del coronavirus ha inciso notevolmente sulla mobilità. C'era da aspettarselo in modo evidente durante la stagione estiva. Uno tsunami, l'uso delle vetture e degli scooter sono raddoppiati in quanto si è dimezzato l'uso dei mezzi pubblici a seguito della riduzione dei posti. È necessario quindi che il trasporto privato debba innanzitutto essere accompagnato da nuove abitudini, da una nuova educazione alla mobilità. A tal fine l'amministrazione comunale ha pianificato due isole pedonali che interesseranno la Marina e la Gioveolella dalle ore 21 alle 2 e tardi alterne 24 ore su 24. Vivere bene è il nostro obiettivo principale per i concittadini e per gli ospiti. L'intento è quello di garantire la tranquillità dell'anno, di garantire uno stato di quiete, donare spazi condivisi in libertà, dimostrare il vero volto dell'isola.